Anche oggi, come ogni lunedì che si rispetti, alla volta buona si è discusso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Il dibattito si è focalizzato soprattutto sul comportamento estremo di Angelo Madonia. Il ballerino ha avuto una discussione piuttosto forte con Selvaggia Lucarelli, dopo la quale ha deciso di abbandonare lo studio senza rilasciare interviste. Questo atteggiamento ha diviso le opinioni dei giudici presenti in studio. Guillermo Mariotto ha ritenuto che Madonia dovesse essere punito severamente, mentre Rosanna Lambertucci è stata più comprensiva. Durante la trasmissione la conduttrice ha lanciato un'indiscrezione su Massimiliano Ossini. Mariotto ha criticato aspramente il comportamento di Madonia, sottolineando che ai suoi tempi un gesto del genere avrebbe portato all'eliminazione immediata. Lambertucci ha invece ipotizzato che Madonia abbia reagito così per difendere Sonia Bruganelli. La discussione si è accesa ulteriormente quando Mariotto ha dichiarato che avrebbe eliminato Madonia senza esitazione. Inoltre, la Balivo ha rivelato che anche Ossini ha rifiutato di confrontarsi con i giornalisti dopo la puntata, senza specificare il motivo. La reazione di Madonia e Ossini ha suscitato diverse reazioni tra gli ospiti presenti in studio. Rossella Herra ha criticato Madonia per aver abbandonato la sua partner Federica Pellegrini, mentre Lambertucci ha cercato di giustificare il gesto del ballerino. La situazione si è fatta sempre più tesa quando Mariotto ha espresso il suo giudizio senza mezzi termini. Resta da vedere se Madonia e Ossini chiariranno presto la loro posizione.